Ciao, oggi sono a Stilo, un borgo della provincia di Vibo Valenzi, un borgo ricco di storia, qua dietro questa chiesetta di epoca bizantina è riconosciuta in tutto il mondo, una piccola bomboniera in stile bizantino, la cattolica. Dietro il borgo c'è il monte Consolino, in cima al monte Consolino c'è il castello Normand, un borgo assolutamente a visitare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.